Azzerati gli incidenti con l'utilizzo di nuovi apparati semaforici a Montesilvano, i cosiddetti Tired comandante, ma questi semafori sono davvero importanti perché dal punto di vista dell'incidentistica stradale i numeri sono davvero incoraggianti? Assolutamente sì, noi siamo riusciti sia nell'intersezione di Corso Umberto con Via Adige, sia nell'intersezione di Via Vestina con Via Cavallotti con il posizionamento dei Tired addirittura ad azzerare il numero degli incidenti. Giova a ricordare che qualche anno fa nell'intersezione di Via Adige con Via Corso Umberto abbiamo avuto addirittura un incidente mortale, ma comunque gli incidenti erano non all'ordine del giorno ma erano frequenti. A questo punto insomma avete deciso di dare un ulteriore segnale, lanciare un ulteriore segnale agli automobilisti indisciplinati? Assolutamente sì, al di là dell'indisciplina, il focus è sempre e comunque la sicurezza. Però adesso abbiamo fatto un ulteriore passo avanti, tutti i nostri impianti semaforici saranno adeguati alle normative europee, inoltre saranno dotati di countdown, quindi l'utente saprà quanto tempo ha ancora di verde, quanto tempo ha di rosso, quanto tempo ha di giallo, in modo che ogni alibi a questo punto non può più esistere. Comandante, siamo in piena stagione estiva, nonostante le problematiche del Covid-19, ovviamente quest'estate a Montesilvano ci sarà più movimento come spesso accade, ci saranno anche più uomini, più agenti della polizia locale in strada? Ecco, questo purtroppo è la nota dolente, noi purtroppo siamo sempre di meno. Il Covid-19 ci ha bloccato un concorso che noi già da febbraio volevamo espletare, purtroppo tutto è fermo, altri problemi burocratici non ci hanno consentito di assumere il personale stagionale, quindi quest'anno siamo in piena emergenza anche col personale. Cercheremo di fare di necessità e virtù, però devo ringraziare le donne e gli uomini del mio comando che si adoperano al di là di ogni limite, sono veramente veramente bravi. Con così poco personale fare quello che facciamo è veramente qualcosa di grande, è importante.